Benvenuti in questa prima puntata, vi spiego il tutto. Oh benvenuti, io sono Ale e siete ovviamente sul mio canale, se no vuol dire che ho caricato questo video non so dove, ma comunque non c'è nient'altro da dire se non... E vai! E questa è una nuova fantastica puntata del mio punto di svista. Il mio punto di svista, sì, suonava bene e dunque ho detto, ci faccio una serie, nella quale potrò inserire tutte le storie che se no non saprei dove narrare. Che poi, sì, sinceramente potevo anche non narrarle, però hanno un posto speciale qui nel mio cuore. E dunque ecco cos'è il mio punto di svista. Sì, ovviamente tranne questa puntata in quanto questa è praticamente una specie di puntata pilota. E dato che questa è una puntata pilota, facciamo anche un esperimento, sì dai ci sta. Voglio un numero equivalente di like e dislike. Sì, sì, avete capito bene. Esempio pratico, state guardando questo video? Ci sono tre like e zero dislike? Ok, dunque cliccate dislike. Ci sono tre like e tre dislike? Beh, in quel caso fate quel cavolo che vi pare. Ci sono quattro dislike e tre like? In quel caso cliccate like. Non abbiate paura. E ricordatevi che un commento di qualsiasi tipo sia è sempre ben accetto. Io spero vada tutto bene. E nel frattempo vi invito a vedere le prossime puntate che se non sono già uscite usciranno. Magari qualcuno sta guardando questo video a distanza di anni e diceva sono già uscite tutte. Hai perfettamente ragione. Dunque, vaffanculo ai classici cliché. Noi ci vediamo in una prossima puntata del mio punto di svista. E vai! Ma perché devono fare casino? Ma... Ma che è una roba fuori di testa questa? Ma che è una roba fuori di testa questa?